Irene Bozzi, psicologa, noi abbiamo voglia di conoscere il tuo punto di vista sull'eleganza che questa sera il Gran Galà delle Margherite ben rappresenta, senza dimenticare lo scopo charity Allora, l'eleganza è fondamentale nella vita, perché non ci vuole molto ad essere eleganti però bisogna essere dentro eleganti, perché ciò che è la bellezza è la bellezza interiore nel momento in cui tu riesci a coniugare quella che è la tua bellezza interiore con quella che è anche la bellezza esteriore, allora hai fatto bingo Detto da una psicologa nota come te, questo ci rende ancora più partecipi del concetto di eleganza che questa sera vuole emergere, questa serata non è l'unico elemento che vuole emergere però abbiamo notato che con la musica, con le creazioni di Luigi Bruno, con i gioielli di Marina Corazziari qui si parla di eccellenza italiana che cos'è secondo te che fa sì che noi italiani all'estero siamo così apprezzati e a volte a casa nostra invece quasi ci sottovalutiamo? Ma senti, c'è un vecchio detto che dice che l'erba del fricino è sempre più verde Noi siamo geniali, siamo stati geniali in tutto, siamo stati dei grandi navigatori, degli scrittori eccezionali cioè tutto, abbiamo iniziato anche il cinema se ci pensi, quindi la televisione, il cinema tutto quello che è arte, dalle arti figurative che sono le arti del bello e quindi in una situazione come la nostra noi dovremmo puntare molto su quello che è il nostro valore e quello che noi possiamo dare all'estero, tant'è vero che all'estero poi ci apprezzano al massimo e questo trovo che sia una cosa bella per noi, quindi potremmo fare di più Esattamente, crederci un pochino di più Ci di più Grazie alla nostra Leone Bosse che lasciamo la sua magnifica serata Grazie Grazie